Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Amin e noi diciamo in un nuovo esperimento Una moneta, che è questo, è qua pieno d'acqua, una moneta può volare, può galleggiare? Proviamo, io adesso toglierò sta carta, così voi vedete bene com'è questo esperimento E' molto delicato, molto delicato, ma che delicato, ma che delicato, ma che delicato, sembra come aprire un pacco di Natale Proviamo, una moneta può volare? Può galleggiare una moneta? Credo di sì Ops, non è caduta Una moneta può pure galleggiare Facile, facile Non può galleggiare, dai Una moneta è impossibile che galleggerai In realtà qua sta galleggiando Eccolo, ma vedete? Lo sto indicando con il mio pollice Eccolo, eccolo Ops, è caduta Ok, la moneta può galleggiare Perché questa è chimica Ho usato un prodotto, non so che cos'è Ma chimico, che fa galleggiare le monete sull'acqua Ovviamente io ho usato questo prodotto Chimico Su una moneta, guarda questa Che è qua dentro, eccola Eccola, la vedete? La vedete? Questa qua Sono identici Io ho usato una cosa chimica Che è questa L'ho usata su una moneta Come ho fatto La spalmata La spalmata proprio a tutte le parti La spalmata proprio a tutto Adesso La mettiamo nell'acqua Che reazione fa? Bollicine La parola non galleggia Mett'altro Pesce Fumo Guardate Le reazione chimiche Avete visto? L'acqua Prima Era bianca E adesso E' diventata Una reazione chimica Cioè Ecco Guardate Non ci vede niente E' reazione chimica Avete visto? Questo Si che è chimica Bella forte Non c'è qua il fumo Non vedete? Io lo vedo Ah si Voi non potete vedere La telecamera Logico Non esce fumo Avete visto esce fumo? Esce fumo Figo Ok Guardate che reazione biancosia Guardate Ok Vado a prendere una cosa Come questa Qua Svuoterò Tutto Le monete Qua dentro Vi farò vedere L'acqua Com'è poi Aspettate Io verso Guardate che reazione Guardate che reazione Mi Mite Mite Qua Sì C'è Sì Tosa Qua Sì Grazie.